In questi giorni si sta parlando tanto di ChatGPT, un tool di intelligenza artificiale che sta impressionando molti per la sua velocità e potenza. Vediamo che cos'è e come può essere utilizzato per alleggerire e velocizzare alcune attività di marketing. ChatGPT è un chatbot, un tool che sfrutta tecniche di intelligenza artificiale innovative per rispondere in maniera plausibile a domande di umani e per sostenere addirittura una conversazione in linguaggio naturale. Lo fa provando ad indovinare su base statistica la frequenza più opportuna di parole dopo essere stato addestrato a leggere milioni di testi e conversazioni. Il modello è stato migliorato grazie ai feedback di istruttori umani. Infatti si parla di apprendimento con rinforzo e con feedback umani. Più precisamente ChatGPT è un transformer, un modello linguistico di grandi dimensioni che è basato su GPT 3.5, a sua volta basato su quel GPT, il primo transformer che già nel 2020 fece gridare al miracolo molti addetti ai lavori. Questa versione è molto più innovativa delle precedenti, è in grado di dare risposte più lunghe, più elaborate, più coerenti con la domanda e anche più precise. Però bisogna tenere presente che stiamo parlando pur sempre di un software che non è in grado, per quanto intelligente possa essere, di capire il senso del discorso come farebbe un essere umano. La prima versione di ChatGPT è stata lanciata il 30 novembre del 2022, poi a dicembre, a metà dicembre, ne è stata rilasciata una nuova versione e da lì si sono susseguiti in rete una serie di informazioni, di esempi, di casi di utilizzo di ChatGPT nei campi più svariati. Io l'ho provato per qualche settimana e oggi vi propongo una serie di esempi, di casi di possibile utilizzo in ambito marketing. Vediamo come possiamo utilizzare ChatGPT per scrivere una semplice email commerciale, quindi in ambito commerciale per alleggerire un po' il carico di lavoro dei venditori. La prima cosa da fare è andare ovviamente sul sito chat.openai.com. Qui ci comparirà questa semplice schermata che non ha grandi funzioni, se non come nei motori di ricerca e nei chatbot appunto un piccolo campo di testo che ci permette di scrivere quella che è la nostra domanda al bot. In questo caso io gli direi sei un venditore, scrivi una cold email per chiedere un appuntamento al fine di presentare la tua azienda e i suoi prodotti. Molto semplice. E immediatamente vedete ChatGPT inizia. Gentile nome destinatario, spero che questa email ti trovi in buona salute. Sono il tuo nome rappresentante della azienda, un'azienda leader nella produzione di, scrivi brevemente, i prodotti e i servizi offerti. Mi piacerebbe molto incontrarti per discutere come i nostri prodotti potrebbero beneficiare la tua azienda e come potremmo lavorare insieme per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali. Sarei disponibile per un incontro la prossima settimana, in un giorno e ora che ti è comodo. Ti prego di farmi sapere se questo è qualcosa che ti interesserebbe e ti invierò le opzioni disponibili per fissare l'appuntamento. Sono ansioso di sentirti e discutere come possiamo lavorare insieme. Saluti cordiali il tuo nome. Come vedete una perfetta, anche se semplice, mail per spezzare, per rompere il ghiaccio classica utilizzata da un venditore per approcciare un prospect. A questo punto li potrei chiedere scrivimi due possibili oggetti per questa e-mail e mi dà due alternative. La prima è richiesta di incontro per presentazione dei nostri prodotti aziendali. La seconda, opportunità di collaborazione e presentazione della nostra azienda e dei suoi prodotti. Come vedete anche in questo caso due coerenti risposte che posso poi personalizzare, migliorare come meglio credo, ma in realtà sono risposte che già mi fanno risparmiare un bel po' di tempo in questa fase di progettazione del rapporto con i prospect. Un altro campo di applicazione su cui si può testare ChatGPT e le sue capacità è quello del copywriting. Se sei un social media manager, un creatore di contenuti che ha bisogno di scrivere testi per professione, ChatGPT potrebbe darti una mano rilevante. Vediamo alcune casistiche di utilizzo. Per esempio, iniziamo provando a chiedere di scrivere un post, un social media post, un post di Facebook per introdurre le novità di ChatGPT, quindi ponendosi nell'ottica di chi ChatGPT lo ha creato. E vedete che immediatamente il sistema risponde Ciao a tutti, siamo entusiasti di annunciare che ChatGPT, il nostro modello di linguaggio avanzato, è stato aggiornato con nuove funzionalità e miglioramenti. Adesso è in grado di generare testo ancora più naturale e coerente e di rispondere in modo ancora più preciso alle vostre domande. Inoltre è stato addestrato su una quantità ancora maggiore di dati, il che significa che ha acquisito ancora più conoscenze su una vasta gamma di argomenti. Non vediamo l'ora di vedere come utilizzerete ChatGPT nei vostri progetti e siamo sempre aperti a ricevere feedback e suggerimenti per migliorare ulteriormente il nostro modello. Grazie per il vostro supporto. Quindi vedete una classica, perfetta direi, post per Facebook che contiene anche una call to action per ingaggiare l'audience chiedendo di condividere dei commenti e dei feedback e dei suggerimenti per migliorare ulteriormente il prodotto con una chiusa finale di ringraziamento. Adesso potremmo chiedergli di scrivere un thread di Twitter, quindi di 5 tweet, sullo stesso argomento e immediatamente inizia la scrittura dei tweet e come vedete in questo caso utilizza anche degli hashtag appropriati per il tweet che si sta scrivendo. Mi sembra anche in questo caso tutto molto coerente per la scrittura di un thread di Twitter sul tema novità di ChatGPT. Vedete che il quinto si chiude addirittura con un grazie per il vostro supporto con hashtag tecnologia e intelligenza artificiale. Sicuramente migliorabile ma davvero un buon punto di partenza. A questo punto si potrebbe andare oltre e chiedere per esempio di scrivere uno script per YouTube diviso in capitoli per spiegare cos'è l'intelligenza artificiale. Quindi crea uno script per YouTube diviso in capitoli per spiegare cos'è l'intelligenza artificiale generativa. Vediamo che anche in questo caso immediatamente inizia a scrivere le sue proposte con un capitolo 1 con un'introduzione all'intelligenza artificiale generativa, un capitolo 2 con un come funziona l'intelligenza artificiale generativa anche con degli esempi specifici di GAN, VAE, autoencoder, quindi delle cose anche molto tecniche. Il terzo capitolo è i casi d'uso, un quarto capitolo che invece riguarda i limiti e le sfide dell'IA generativa, quindi anche i problemi etici, bias cognitivi che può avere e infine delle conclusioni con delle prospettive future per lo sviluppo e anche un invito alla community a continuare a esplorare le possibilità dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi sicuramente un ottimo script di partenza che può essere utile proprio a generare idee per video su youtube nei campi più svariati. Ora la stessa cosa proviamo a chiedergliela traslata su tiktok, quindi crea uno script per tiktok di 30 secondi per spiegare il tema precedente e qui lui crea uno script in cui distingue il narratore dal visual, quindi con una parte destinata al narratore che inizia ciao a tutti voglio oggi presentarvi, parlarvi dell'intelligenza artificiale generativa è un visual che dovrebbe essere una serie di immagini che mostrano l'IA generativa in azione come la generazione di testi, immagini e suoni. Continua la narrazione con la supporto del video per 4-5 battute in modo da stare nei 30 secondi che gli abbiamo dato come limite per il video di tiktok. Anche qui vedete che la parte finale è dedicata alle sfide future, quindi sicuramente interessante. La chiusura, continuate a seguirci per saperne di più sull'IA generativa e su come può cambiare il nostro mondo con un visual finale che lui suggerisce essere il logo della tua piattaforma o del tuo canale tiktok in questo caso. Quindi è anche qui un'ottima idea script di partenza per tiktok. Quindi come avete potuto vedere il sistema è perfettamente in grado di capire come scrivere un contenuto differenziandolo in funzione delle caratteristiche della grammatica tipica della piattaforma nel quale ci serve poterlo utilizzare. A questo punto mettiamolo alla prova con un'ultima richiesta un po' forse più complessa e cioè proviamo a fargli scrivere il testo di una ipotetica landing page su un software SAS che usa l'intelligenza artificiale per semplificare le attività di marketing. Siamo un po' generici ma potremmo essere anche più specifici in modo da avere delle risposte a loro volta più più dettagliate. Ecco che immediatamente inizio a scrivere benvenuti in nome del software la soluzione di marketing automatizzato basato sull'intelligenza artificiale. Siamo lieti di presentarvi il modo più semplice e avanzato di gestire le vostre attività di marketing. Con nome del software potrete automatizzare molte delle attività noiose e ripetitive del marketing come la segmentazione della lista di contatti, la personalizzazione del contenuto, l'ottimizzazione delle campagne. Grazie all'uso dell'AI il nostro software è in grado di comprendere, di apprendere dai dati e migliorare continuamente le prestazioni delle vostre campagne. Potrete trascorrere meno tempo sui compiti manuali e concentrarvi su ciò che conta davvero, la crescita del vostro business. Con il nome del software potrete segmentare, creare contenuti altamente personalizzati, ottimizzare in modo automatico le campagne, monitorare i risultati in tempo reale. Non importa se siete un'agenzia di piccole o medie dimensioni o un'azienda di grande dimensione, il software è la soluzione ideale per semplificare le vostre attività di marketing e ottenere risultati migliori. Prova subito la versione gratuita o contattaci per una dimostrazione personalizzata. Tutto quello che si potrebbe chiedere a un copywriter di scrivere fatto in davvero molto molto meno tempo. Poi ovviamente tutto è migliorabile e personalizzabile, qui l'intelligenza umana deve assolutamente intervenire, ma una prima bozza di quello che potrebbe essere una landing page, ChatGPT è sicuramente in grado di darcela. Terzo campo di applicazione di ChatGPT che vediamo e l'utilizzo in ambito SEO. Cerchiamo di capire quali sono le potenzialità e i limiti del tool di OpenAI. Per esempio possiamo chiedere al sistema di darci 20 keyword da usare per un blog post sulla AI generativa. Uno, generative AI, GPT, Deep Learning, Machine Learning, Natural Language Processing, Neural Networks, AI Models, eccetera eccetera. Quindi sicuramente sono tutti testi, keyword interessanti da usare per un blog post sull'intelligenza artificiale generativa. A questo punto gli potrei chiedere di creare un blog post per la keyword numero 13 relativa all'arte generata attraverso l'intelligenza artificiale. E in questo caso, siccome la keyword è in inglese, il sistema mi produce un blog post in inglese. Vediamo come va a finire, mi sembra comunque coerente con quello che gli abbiamo chiesto e inizia anche con una piccola storia di quella che è stata la progressione e l'innovazione in ambito di arte generativa a partire da Deep Dream sviluppato da Google nel 2015. Quindi vedete che il post segue un po' anche le regole dei blog post, per cui la scrittura in paragrafi ben chiari che ci permette di avere una lettura SEO friendly, diciamo così. A questo punto proviamo a chiedergli di tradurre. Mi tradurresti il testo del blog post in italiano? Vediamo se ha anche questo tipo di capacità. E in effetti inizia la sua traduzione. Forse il titolo è un po' letterale, ma per il resto mi sembra che ci siamo. L'intelligenza artificiale ha fatto molti progressi negli ultimi anni con gli avanzamenti dell'apprendimento profondo e dei modelli generativi che consentono la creazione di opere d'arte generate dall'intelligenza artificiale sempre più sofisticate e credibili. Dalle immagini e video, alla musica, alla scrittura, l'IA viene utilizzata per spingere i confini di ciò che è possibile nel mondo dell'arte e della creatività. Un'area in cui l'IA sta facendo un impatto particolarmente significativo, qui c'è sicuramente da correggere, è nel campo dell'arte generativa. Questo tipo di arte è creato utilizzando algoritmi e modelli di apprendimento automatico che vengono addestrati su grandi set di dati, di immagini, video e altre forme di media. Gli algoritmi quindi utilizzano queste informazioni per creare nuove opere d'arte originali. Uno degli esempi più noti è Deep Dream e così via. Un'altra area in cui l'IA viene utilizzata per creare arte è nella generazione di musica, quindi c'è un accenno anche alla musica, anche se non gliel'avevamo chiesto. Anche se l'arte e la musica generata dall'IA sono senza dubbio impressionanti, sollevano una serie di domande sulla natura della creatività e sul ruolo dell'artista nel processo creativo. Alcuni sostengono che l'arte generata dall'IA non sia veramente creativa perché è solo il prodotto di algoritmi equazioni matematiche. Altri sostengono che l'arte generata dall'IA può essere vista come una nuova forma di collaborazione tra artisti umani e macchine. Indipendentemente dalla posizione su questo tema non c'è dubbio che l'arte generata dall'IA stia spingendo i confini di ciò che è possibile nel mondo dell'arte della creatività. Man mano che la tecnologia continua a progredire ci aspettiamo di vedere un... e qui si è fermato un attimo perché come vedete c'è un problema di high demand nel nostro sistema quindi temporaneamente il sistema è un po' sovraccarico ma comunque il il testo è pressoché pronto ed è abbastanza utilizzabile seppur migliorabile. Un'altra cosa che li potrei chiedere è di darmi dei tag da utilizzare per questo post. Quali tag potrei utilizzare per questo blog post. Vediamo se nonostante i problemi ecco ci dà subito delle risposte che sono abbastanza coerenti anzi molto coerenti con quello che è il testo che è stato generato. Anche in questo caso ce li dà in inglese. Ora un esperimento interessante che si può fare è quello di dargli un articolo di base che è già stato scritto e chiedergli di fare delle operazioni. In questo caso io ho preso un articolo sul metaverso un piccolo testo che avevo scritto e gli chiedo dato questo articolo mi suggeriresti gli argomenti che mancano visto che è un articolo davvero introduttivo sull'argomento potrebbe meritare una un'aggiunta una possibile aggiunta o magari delle potrei voler avere delle idee potrei voler avere delle idee per un successivo articolo su questo tema. Immediatamente lui ha letto l'articolo e mi seleziona mi elenca una serie di informazioni una serie di possibili argomenti utili su ciò che manca. Argomenti che mancano sono quelli relativi ai possibili impieghi del metaverso nei vari ambiti business educazione intrattenimento socializzazione ai problemi legati alla privacità qui privacy è storpiato e alla sicurezza alle implicazioni psicologiche e sociali dell'immersione in un mondo virtuale persistente alle possibili soluzioni tecnologiche per la creazione di un vero metaverso alle sfide per la sua creazione e sviluppo ai possibili sviluppi futuri del metaverso. Ma non male come come idee io potrei a questo punto dire mi aiuti a scrivere un paragrafo sull'applicazione della realtà virtuale in medicina vediamo cosa tira fuori. La realtà virtuale sta rapidamente diventando uno strumento importante nell'ambito medico grazie alle sue capacità immersiva e interattiva la VR può essere utilizzata per una vasta gamma di applicazioni mediche dalla formazione addestramento degli operatori sanitari alla riabilitazione dei pazienti passando per la diagnosi e la pianificazione chirurgica. In ambito formativo la VR consente agli studenti di medicina e agli operatori sanitari di esercitarsi in situazioni realistiche e controllate senza rischi per i pazienti. Inoltre la VR può essere utilizzata per simulare situazioni di emergenza e permettere agli operatori sanitari di acquisire esperienze e competenze in situazioni altamente stressanti. Non male la VR può essere utilizzata per la riabilitazione dei pazienti soprattutto in caso di lesioni del sistema nervoso di malattie croniche come l'artrito e il morbo di Parkinson. Grazie alla sua capacità di creare ambienti immersivi e interattivi la VR può aiutare i pazienti a raggiungere obiettivi di movimento e di riabilitazione in modo più efficiente e coinvolgente. In ambito chirurgico la VR può essere utilizzata per la pianificazione preoperatoria, la simulazione di procedure chirurgiche per l'addestramento dei chirurghi. La VR consente ai medici di visualizzare in dettaglio l'anatomia del paziente e di esplorare virtualmente il sito dell'intervento di pianificare le mosse chirurgiche in anticipo riducendo a così tempi operatori i rischi per il paziente. Conclusione, in generale la realtà virtuale sta dimostrando di essere uno strumento estremamente utile e versatile in ambito medico con un potenziale enorme per migliorare la formazione degli operatori sanitari, la riabilitazione dei pazienti e la chirurgia. Ci aspettiamo che in futuro vedremo un'ulteriore espansione dell'uso della VR in ambito medico e sanitario. Direi che non avrei potuto chiedere di meglio ad un'intelligenza artificiale. Avete visto ci sono dei problemi di scrittura che possono essere però facilmente corretti avendo risparmiato molto tempo nella fase iniziale. Tenete però conto e fate attenzione perché Google è molto attenta a scovare i contenuti scritti in maniera automatizzata e lo sarà sempre di più. Quindi attenzione perché conviene sempre certamente farsi aiutare ma poi personalizzare fortemente con il vostro stile il contenuto che andrete poi a mandare online. La quarta prova che facciamo di utilizzo dell'intelligenza artificiale è nel campo della pubblicità. Vediamo se ChatGPT può esserci utile nella pianificazione e realizzazione di campagne pubblicitarie. Potremmo provare a chiedergli di creare tre copi diversi per un ADV su Facebook. Il prodotto è un software SAS che usa l'intelligenza artificiale per semplificare le attività di marketing. Vediamo cosa ci risponde. 1. Riduci i tempi e aumenta i risultati con il nostro software SAS di marketing basato sull'AI. Provalo ora e scopri come la tecnologia può semplificare la tua attività di marketing. Mi sembra corretto. Vuoi essere un passo avanti nella tua attività di marketing. Sfrutta il potere dell'AI con il nostro software SAS. Semplifica le tue attività e ottieni risultati migliori in meno tempo. Provalo subito. 3. L'AI può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di marketing in modo più efficiente e veloce. Prova il nostro software SAS e scopri come può semplificare le tue attività di marketing. Provalo ora e vedi i risultati per te stesso. Quest'ultima frase non è molto corretta. Si può sicuramente migliorare ma devo dire che i tre esempi di copy sono sicuramente utili per iniziare. Proviamo a fargli riscrivere il testo 1 con un tono di voce più ironico. Riscrivi il testo 1 con un tono di voce più ironico. Vediamo se ci risponde. Stai ancora usando la vecchia scuola di pensiero per il tuo marketing? È ora di passare al ventunesimo secolo con il nostro software SAS basato su l'AI. Riduci i tempi e aumenta i risultati senza dover diventare un esperto di tecnologia. Provalo ora e di addio al passato. In effetti ci sta abbastanza ironico con lo stile sicuramente diverso rispetto a quello che ci aveva proposto inizialmente. Ora proviamo a chiedergli di trovare un titolo di 50 caratteri massimo che poi è il limite che Facebook ci chiede per l'advertising. Aumenta il tuo marketing con l'AI in pochi click. Mi sembra giusto. Oppure li potremmo chiedere quali sono i migliori interessi Facebook ads per targettizzare il nostro prodotto. Lui sa dalla conversazione precedente che si tratta di un prodotto SAS e quindi dovrebbe tirar fuori dei target in linea. E dice i migliori interessi per targettizzare il tuo prodotto su Facebook ads dipenderanno dal tuo target di riferimento e dal settore in cui opera il prodotto. Ovviamente lui di questa cosa non sa nulla. Siamo stati troppo generici. Tuttavia alcuni interessi comuni per i prodotti SAS basati sull'AI potrebbero essere marketing e pubblicità, tecnologia e innovazione, artificiale intelligence e machine learning, startup e imprenditoria, business e gestione aziendale, digital marketing e social media, analisi dei dati e business intelligence, e-commerce e vendite online. Non male. È importante notare che gli interessi devono essere scelti con attenzione perché un target sbagliato può portare ad una campagna pubblicitaria meno efficace e più costosa. Inoltre utilizzando gli interessi più specifici e precisi si può evitare di raggiungere persone che non sono interessate al prodotto o servizio offerto. Quindi direi che ci dà anche un consiglio finale, abbastanza banale, ma comunque in linea con quello che abbiamo chiesto. Quindi direi che la prova dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla scrittura di copy per la pubblicità e anche alla terghettizzazione per l'advertising su Facebook è abbastanza riuscita. L'ultimo ambito che proviamo ad indagare è quello delle ricerche di mercato. Notoriamente un'attività che richiede molto tempo ai marketer e spesso riguarda settori che sono poco conosciuti tipicamente, di cui si vuole comunque avere un approfondimento per prendere poi le decisioni più opportune. Vediamo di mettere alla prova chat GPT sulle ricerche di mercato. Per esempio proviamo a indagare il mercato dei prodotti bio e quindi proviamo a chiedergli quanto vale il mercato dei prodotti bio in Italia. Quindi quanto vale il mercato dei prodotti bio in Italia? E lui risponde il mercato dei prodotti biologici in Italia è in costante crescita negli ultimi anni, con un valore stimato di circa 2,5 miliardi di euro nel 2020. Tuttavia il mercato italiano dei prodotti biologici è ancora relativamente piccolo rispetto ad altri paesi europei come Germania e Francia. Quindi effettivamente il sistema va a recuperare un dato seppur non aggiornatissimo e ce lo restituisce con anche una considerazione rispetto ad altri paesi. Quindi un'informazione abbastanza generale che sicuramente richiederebbe un approfondimento. Un'altra cosa che possiamo chiedere è capire qual è l'opinione degli italiani rispetto ai prodotti bio. Qual è l'opinione degli italiani sui prodotti bio? L'opinione degli italiani sui prodotti biologici è generalmente positiva. Ci sono diversi fattori che contribuiscono a questa percezione positiva, tra cui la crescente consapevolezza dei benefici per la salute e l'ambiente dei prodotti biologici, nonché l'aumento dell'offerta di prodotti biologici nei negozi e nei mercati. Tuttavia alcune persone possono essere scoraggiate dal prezzo più elevato dei prodotti bio rispetto a quelli convenzionali. Qui non va a recuperare dei dati di fatto e quindi pone un po' di difficoltà perché ovviamente richiederebbe un'ulteriore ricerca per capire se ci sono dei dati specifici di mercato a corredo di queste informazioni. Ma vediamo se sa qualcosa sulle aziende che compongono il mercato. Quali sono le aziende di prodotti bio italiane più note e che fatturano di più. Vediamo se ha queste informazioni. Ci sono molte aziende italiane che producono e vendono prodotti biologici di alta qualità. Alcune delle aziende più note e di maggior successo sono BioItalia, Bioagricop. Qui con una descrizione anche specifica. La sorgente del benessere ci dice proprio su che cosa puntano, su quali sono le specializzazioni, la terra e il cielo, Natura sì, quindi passa alle catene di negozi, l'azienda agricola, la finestra sul cielo. Insomma l'impressione che mescoli insieme un po' di aziende di diverse tipologie. Ci dice infine che alcune di queste aziende fatturano milioni di euro e sono molto conosciute in Italia e all'estero. Quindi non ci dà un dato sul fatturato che probabilmente è anche difficile da recuperare. A questo punto potrei chiedere di farmi, di dirmi i nomi, i nomi dei prodotti a scaffale bio più comprati dagli italiani. Vediamo se riesci a darmi questa informazione. Allora includono frutta e verdura, mele, pere, pomodori, carote, insalate, spinaci, sono i prodotti più popolari, celeali e legumi, prodotti lattiero caseari, quindi mi dà informazioni di categorie di prodotti più che prodotti commerciali, nomi di prodotti commerciali di brand. Questi sono alcuni esempi, ovviamente ci sono molte altre categorie di prodotti bio che vengono acquistati dagli italiani e dipendono anche dalle preferenze personali e dalle zone in cui vivono. L'ultima cosa che gli chiederei è di farmi una tabella. Quindi fammi una tabella con i nomi dei brand bio e i relativi indirizzi web. Questa è un'informazione che non ha, mi dispiace ma non ho informazioni sulle aziende con il loro indirizzo web. Mi limito a fornirti informazioni generali e a conoscenza al momento del training. Quindi in questo caso il sistema non riesce a restituirmi questo tipo di informazioni. Mentre se gli dovessi chiedere qualcosa di più generico o meglio qualcosa di più specifico ma relativo a un campo di applicazione, a un settore un po' più chiaro e specifico, probabilmente potrei avere dei risultati migliori. Per esempio fammi una tabella con i nomi di aziende automotive e i relativi indirizzi di web più social media. Vediamo se in questo caso riesce. Proviamo invece a girare un po' la frittata e a chiedere... Ecco qui però... Ecco qui pur dicendo di non avere i nomi delle aziende automobilistiche relativi indirizzi web mi dà comunque una serie delle più famose aziende automobilistiche con i loro indirizzi web e alcune di queste aziende non hanno account social media per cui gli viene difficile darmi tutte le informazioni che gli avevo chiesto originariamente. Però posso dire che mi metti queste informazioni in tabella nome, azienda e indirizzo web. qui mi dice che non ha la possibilità di creare tabella. In realtà io in passato qualche giorno fa gli ho fatto creare una tabella. E quindi diciamo che probabilmente l'aggiornamento del 9 gennaio non dà queste informazioni oppure li posso... potrei provare a cliccare su regenerate response e a questo punto vedere se riesce a darmi quello che gli avevo chiesto e in effetti me li dà. Oggi in questo momento dopo aver rigenerato la risposta effettivamente mi sta creando una tabella con nome azienda e indirizzo web. Quindi il suggerimento che mi sento di dare è di provare a volta a forzare la risposta. Quindi a cliccare sul tasto per rigenerare una ulteriore risposta e vedere se il sistema effettivamente vi dà quella quella giusta. Quindi anche in questo caso è importante fare delle prove, esercitarsi, cercare di capire quali sono i limiti e provare anche a capire quali possono essere i modi per rafforzare il sistema al fine di ottenere la risposta desiderata. Ora in generale mi sembra che sull'argomento ricerche di mercato diciamo che chat gpt non soddisfa appieno. Certo può essere utile per una prima infarinatura quando si tratta di prendere confidenza con un mercato praticamente sconosciuto ma poi c'è tanto lavoro da fare per raffinare cercare riferimenti dati a supporto della ricerca stessa e in questo probabilmente un motore di ricerca come google se saputo utilizzare potrebbe essere molto più efficace anche perché molto più aggiornato di chat gpt. Insomma che te ne pare? A me sembra che chat gpt possa essere davvero molto utile almeno in quattro delle attività di marketing che abbiamo visto, l'ultima un po' meno. Sicuramente è utile quando abbiamo bisogno di stimoli, di produrre idee, di produrre o di ricercare argomenti nuovi e quindi di farci un'idea sulla conoscenza esistente in poco tempo quindi ci fa risparmiare molto tempo e soprattutto ci dovrebbe stimolare a utilizzare il tempo risparmiato per approfondire per andare oltre la risposta che ci dà la macchina per migliorare quello il prodotto il semi lavorato della macchina e personalizzarlo secondo il nostro stile e la nostra creatività. Migliorerà? Sicuramente migliorerà. Nei prossimi mesi vedremo dei miglioramenti esponenziali del sistema tanto da farci pensare, illudere che il lavoro di chat gpt possa sostituire l'uomo, il lavoro umano. In realtà quello che andrà a sostituire sarà il lavoro di persone pigre, di persone che si adageranno a un tipo di lavoro come dire mediocre o comunque ormai raggiungibile e fattibile anche da un software di intelligenza artificiale e sostituirà il lavoro di coloro che nel frattempo in questi giorni, in questi mesi non saranno stati in grado di capire come sfruttare l'intelligenza artificiale chat gpt per potenziare le proprie capacità. Fammi sapere cosa ne pensi, scrivimi la tua opinione nei commenti e iscriviti al canale per non perderti le prossime esplorazioni all'incrocio tra tecnologia e marketing. Alla prossima!